Edizione straordinaria. No, io pensavo davvero di smettere di fare video, no? Finisce tutto, riapre tutto, torniamo alla normalità. C'ho altro da fare, ci sono tante altre cose che posso studiare. E invece no, io non mi sono mai resa conto dello stato d'animo delle staffette partigiane. Un conto è leggerlo sui libri, un conto è doverlo praticare semplicemente per vivere. Allora cerchiamo di capirci. Quando si scrive a commento di qualunque canale YouTube non mettete le mascherine, fate una vita come fosse quella di prima. Ecco, chi scrive questa cosa, cioè, non lo sta facendo. Io sono 90 giorni che non mi metto questa mascherina e sono stata costretta fino ad oggi solo una volta, perché sono andata in posta, l'ho indossata 10 minuti, ma qui le cose stanno peggiorando. Stamane, finalmente, dopo tre mesi, me ne sono andata dal dentista. Vado dal bar a fare colazione, gente che mi conosce da una vita mi dicono guarda, per stamattina va bene che sei entrata senza mascherina, però poi te la devi per forza mettere. Dico, ragazzi, ma state scherzando, cioè me la metto da fuori, per dentro, quanto, un secondo. Eh, ma no, Cri, lo devi fare, se no noi ci chiudono bottega se ci fanno un controllo. Dico, ragazzi, almeno per bere il caffè latte me la potrò tirare giù, spero. Eh beh, quello è ovvio. Va bene, ne prendo atto. Poi mi aspetto il mio autobus, indosso la mascherina solo sull'autobus, non riesco a respirare con quella cazzo di mascherina, me la devo abbassare, la devo mettere a mo' di bavaglio. E aspettare, aspettare che qualcuno magari mi rompa anche i coglioni perché non l'ho messa sopra il naso. Ma io farò la staffetta partigiana, signori. Se a me mi costringete, con i 28 gradi che ci sono oggi a Genova, su un mezzo pubblico senza aria condizionata, a respirare con la mascherina, io vi svengo su quel mezzo pubblico, io ve lo fermo quel mezzo pubblico, perché poi il capo, l'autista che guida, non può mica andare e proseguire con una svenuta dentro il mezzo. No, no, io svengo e faccio fermare il mezzo, così vediamo se quelli che sono sull'autobus sono così contenti di rompermi i coglioni. Andiamo avanti. Io vivo a Genova Borzoli e sono andata a Genova Pegli per il mio dentista. Arrivo e trovo su tutti i negozi di tutta Pegli dei belli adesivi prestampati dal comune di Genova che dicono obbligatorio ovunque tu metti piede la mascherina e il distanziamento. Ma a me risultava dai decreti che o c'è il distanziamento o c'è la mascherina. E invece no qua, sono più ligi. Fase 3, cazzo, 90 giorni! Ok, mi tengo sta mascherina sul braccio. Se devo andare dal tabaccaio me la metterò entrando. Entro dal tabaccaio. Non sapevo dove mettermi perché c'erano un sacco di croci. Per terra. Mi dicono lei si deve mettere lì. Ok, metto lì. Con sta mascherina addosso. E dico, ma abbiate pazienza ma non vi sembra una contraddizione? Io ho la mascherina addosso e sto comprando del tabacco che mi uccide. La signora mi ha detto Ah, ma sa! Dicono che per voi fumatori è più facile che non lo prendete fumando. Gli ho detto Signora, ma lei crede veramente a questa cosa? Cioè, questi credono veramente che faccia più bene fumare che il coronavirus? Ma come cazzo stiamo? La signora insistì. Al che le ho risposto Guardi, signora, io a questo punto le dirò non so più se mi fa male fumare oppure lo stato di emergenza. E' rimasta abasita. Non si aspettava una risposta intelligente di due neuroni che si incocciano. Esco dal tabaccaio. Cammino per andare dal mio dentista con la mia mascherina al braccio. Passo a fianco di una signora. Ecco, vedi? La porta al braccio. Guardate, non sono tornata indietro a fare i conti con questa bagascia sbirra di quartiere solo perché sono tre mesi che volevo vedere il mio dentista. Non c'avevo voglia di perdere tempo in liti con le stupide galline starnazzanti che vivono nella mia città. Va bene. Vado da quel poveraccio del mio dentista. Mi indosso la mascherina per quei due secondi che sono serviti a entrare e a mettermi sulla poltrona. l'ho rindossata appena uscì appena alzata dalla poltrona perché se non me la metto dentro lo studio del dentista porca madonna mi chiudono il dentista mi chiudono il dentista ed esco esco e tutta fiduciosa riprendo il mio mezzo col solito meccanismo sotto il naso perché se no non respiro e dico bene ho visto i banchetti passando mi fermo a Sestri Ponente al mercato orionale che finalmente è riaperto. Scendo faccio due passi a piedi e vedo che il mercato orionale è presidiato dalle forze del male la municipale. Mi avvicino e due salvatori della patria che potrebbero aver avuto appunto vent'anni uno e ventidue l'altro mi dicono signora lei deve indossare la mascherina dico no guardi la mascherina all'aperto non va indossata ah no mi fanno no no è obbligatoria obbligatoria dove chiedo io mi scusi ma dov'è l'ordinanza che lo dice ah guardi l'ha deciso il sing da Kobucci ed è così fino al 3 di giugno dico no mi scusi dove la trovo la mascherina ma la mascherina ce l'ha il braccio non la mascherina l'ordinanza gli ho dovuto ribadire ma signora ma lei pensa che noi mentiamo dico guardi mente anche il governo ah ma noi non siamo il governo si mette la mascherina messo la mascherina sì 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 la metto messa la mascherina abbassata sotto il naso e me ne sono andata signori non ho comprato il mercato rionale allora ma qui bisogna essere staffette partigiane santo cielo cioè è diventata una cosa angosciante vivere ma il sing da Kobucci non ha nessun diritto di fare ordinanze è scritto nei decreti bastano e avanzano i presidenti di regione cazzo e ci si mettono le forze del male a raccontarmi delle musse come diciamo a Genova guardate io ho tutto il diritto di essere pessimista io ho tutto il diritto di pensare che noi siamo quel popolo l'unico popolo sfigato al mondo coglioni al mondo noi saremo quei cretini che ci faremo vaccinare tutti ci faremo microcippare tutti e non ci sarà nessuna seconda legge della termodinamica a salvarci non ci sarà nessuna grande madre idea che verrà a salvarci e men che meno quel diglio bastardo saluti